È una vittoria molto importante in ottica playoff perché è uno scontro diretto, ci avviciniamo al Catania e rimaniamo attaccati alle posizioni più alte di classifica, quindi sono punti che ci danno veramente tanto morale e tanta fiducia per il proseguo del campionato. Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando bene in settimana, lavoriamo sui nostri concetti, sui nostri principi e cerchiamo di evitare di prendere gol, che è la cosa più importante, lavoriamo di reparto, siamo giovani, ma cerchiamo di darci responsabilità ognuno di noi e quindi di responsabilizzarci e di fare il meglio possibile. I risultati stanno venendo e quindi siamo molto contenti e continueremo a lavorare e migliorare sicuramente perché comunque c'è da migliorare in alcuni aspetti. Quindi siamo soddisfatti, ma sappiamo che per affrontare adesso la Ternana non possiamo assolutamente rilassarci e dobbiamo continuare a migliorare e a lavorare come stiamo facendo.